Sono 66 i progetti immediatamente realizzabili approvati dal tavolo istituzionale del contratto di sviluppo per il Molise. Un lavoro e un risultato straordinario portato avanti in tempi record grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni. Anche così riparte il Molise, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la riunione a Palazzo Chigi ieri sera. I progetti approvati tra i 365 presentati sono stati finanziati con 220 milioni del Fondo di Sviluppo e Coesione gestito dal ministro per il Sud Lezzi e deliberati dal Cipe. Presenti anche il ministro Lezzi, appunto il governatore Toma, i sindaci di Campobasso e Isernia, i rappresentanti delle due province e delle due prefetture. L'iniziativa più corposa che da sola vale 130 milioni è quella relativa allo sviluppo turistico lungo i tratturi di cui è capofila Campo di Pietra. Il progetto allo stadio di prefattibilità comprende anche un insieme di interventi presentati singolarmente da vari comuni e sono 62 in totale. I centri interessati. Bottino pieno per il primo cittadino di Campobasso, Roberto Gravina, approvati il sistema di mobilità e parcheggio a uso del centro storico e la realizzazione della strada interpoderale di collegamento tra Santo Stefano e la Fondo Valle Rivolo, 19 milioni, la dotazione totale. Isernia invece completerà l'auditorium con 13 milioni del CIS. Finanziata anche la realizzazione di un centro d'eccellenza universitario in tema di Data Science, tra gli altri interventi, la progettazione per il terzo lotto della Fondo Valle Verrino, i lavori del primo intervento funzionale del piano regolatore portuale di Termoli, 23 milioni, e la ristrutturazione del villaggio provvisorio di San Giuliano di Puglia. Mi fa particolarmente piacere aver sostenuto questo CIS e mi auguro che queste risorse contribuiranno a dare un impulso positivo al Molise, terra che merita quell'attenzione da parte della politica che in passato troppo spesso è mancata, ha commentato il ministro Lezzi. Risposta straordinaria ha aggiunto Conte, dietro la quale c'è una reale e concreta volontà di concorrere alla crescita di una terra dall'alto potenziale di sviluppo attraverso il potenziamento delle infrastrutture, la valorizzazione degli investimenti nell'industria, nel turismo e nella cultura.